Con Ayrids, la squadra rivelazione dell'ultimo anno del kart, Rui, un minuto con noi, ieri era molto caldo, oggi è più fresco, come vanno i piloti e come vanno i gokart con la temperatura più fresca, e noi rispondiamo a francese. Quindi, alla fine, la pioggia non ha cambiato tanto il grip delle gomme, le kart con il fresco vanno meglio, e per i piloti ci pensano il team manager!